Wabalaba dub dub, bentornati su Nomamamazzo, bentornati nella playlist dedicata a Samuel Stern, il nostro libraio di Edimburgo preferito, in un numero che è davvero una bella botta in faccia. Samuel Stern numero 15 dal profondo. Dal profondo lui divora, diceva, non è la settima stagione di Waffe, invece no, qui è solo dal profondo. Prima di cominciare, vi ricordo sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutte le altre playlist in cui non parlo di Samuel Stern o di Dylan Dog, che be' frega, andateli a vedere, condividete il video con tutte le persone che hanno una doppia personalità e commentate qui sotto con due cose. Uno, ovviamente, cosa ne pensate di questo numero, e due, ormai siamo al numero 15, mi interessa sapere qual è il vostro numero di Samuel preferito e qual è il vostro numero di Samuel che vi è piaciuto di meno. Commentate qui sotto. Iscrivetevi anche agli altri miei social, ovviamente, se siete interessati a seguirmi in ogni dove, in ogni luogo, in ogni lago. Samuel Stern nel profondo, numero decisamente non adatto ai deboli di cuore. In questo numero, ecco, farò un pochino di spoiler, quindi se non l'avete letto e non volete il minimo spoiler, aspettate un attimo a vedere questo video, leggetevi il numero e poi tornate. Quindi pronti, inizierò a parlare abbastanza liberamente. In questo numero c'è dello splatter, ragazzi, finalmente vediamo uno splatter non direttamente collegato alla presenza del demone, nel senso che c'è il primo morto ammazzate a causa di un'arma da taglio, di un'arma bianca. Poi scopriremo chi ammazza chi, però lo scopriamo alla fine. Comunque è un personaggio che si vede, ama utilizzare il coltello. E con la potenza che ha questo personaggio, cavoli, è riuscito tranquillamente a sventrare un giovane ragazzo che è rimasto inerme e lasciando anche noi lettori molto inermi di fronte a questa scena. Disegnata fantasticamente da, e ci tengo a dirlo, da Pietro Vitrano. Lo dico perché c'è un piccolo refuso, eh. Allora, il disegnatore non è Vincenzo Vitrano come scritto qua, ma Pietro Vitrano come scritto qua. E a prova di tutto ciò, alla fine c'è la firma che riporta chiaramente Pietro. Ringrazio Gianmarco Fumasoli, himself, in persona, che mi ha contattato per ricordarlo anche a voi che il nome corretto del disegnatore è Pietro Vitrano. La storia, soggetto e sceneggiatura, è di Francesco Vacca e ovviamente la copertina è del solito fantastico e collaudato trittico Piccioni di Vincenzo e Tanzillo. Leggo sempre perché comunque tra pronunce varie è meglio leggere. Quindi ecco, ci tenevo a dire questo. Chiusa parentesi sul piccolo refuso. Dicevo, queste scene sono davvero impressionanti. Poi magari nel video su Instagram che faccio sempre, sfogliamo insieme il fumetto. Poi ve lo metto qua in descrizione, così andate a vedere anche il video su Instagram, che si concentra solo sul disegno. Per quanto riguarda invece la storia, appunto, è impressionante per questo motivo, perché c'è il primo morto ammazzato a mano di un'arma bianca, c'è molto splatter, e anche perché tratta dei temi molto forti. Temi che tra l'altro potrebbero urtare la sensibilità sia di chi magari ha una, diciamo, una mentalità un pochino chiusina, un pochino suscettibile, un pochino, scusatemi il termine, un pochino bigotta magari perché, non per cattivere, magari perché è cresciuto in questo modo, come lo stesso protagonista, Greg Dunbar, e quindi potrebbe essere urtato, vedendo certe cose, e d'altro canto questo numero potrebbe paradossalmente anche urtare la sensibilità invece di chi vive in modo un po' più libertino, di chi vive la sessualità in modo molto più aperto, più disinibito. Ora, in questo numero sembra quasi che si condanni questo, chiamiamolo con le sue parole, questo bordello che si chiama Fidelio. In realtà no, in realtà assolutamente no. Samuel Stern e soprattutto padre Duncan hanno spiegato molto molto bene nel numero 8, il secondo girone, qual è la loro posizione su certi argomenti, che è una posizione vivi e lascia vivere. È una posizione che il vero male non sta certo lì, sta altrove, nelle azioni che si commettono, non certo in quello che riguarda la propria sfera personale. Quindi se per caso siete delle mistress o dei sadomasochisti e sfogliando in edicola questo numero vi sentite offesi, mi raccomando, leggetelo con attenzione, perché è molto chiaro, ho una lettura attenta, che in questo numero la rappresentazione del male non è tanto data da questo tipo di persone che frequentano il Fidelio, che per carità non è il secondo girone a cui noi siamo affezionati, però è comunque un bordello un pochino più estremo da un altro punto di vista, ma non è tanto rappresentato dagli habitués di questo locale, quanto da il personaggio interessato che è Greg Dunbar, che rappresenta proprio il classico tipo di persona che reprime i suoi istinti, reprime la sua natura e ci mostra come il male sfocia quando una natura repressa per tanto tempo poi come un fiume che rompe una diga, rompe appunto gli argini e sfocia in azioni eccessive, eccessive persino agli occhi dei frequentatori abituali del Fidelio. Di conseguenza, ecco, se c'è una rappresentazione del male in questo numero non è certo i frequentatori del bordello, non è certo chi ama un certo tipo di attività recreativa, ma chi appunto reprimendo troppo le proprie azioni poi rischia di diventare peggio di come in realtà lui e rischia di diventare peggio di queste persone come vengono viste agli occhi del mondo. Un altro modo che ha l'autore di farci capire che padre Duncan è un prete ma è un uomo di mondo è molto aperto è il fatto, innanzitutto lo dice padre Duncan in persona quando parla con il proprietario del Fidelio, ma anche il fatto stesso che mettono un altro prete in contrapposizione al pensiero aperto di padre Duncan che è il parroco del paese di questo paese che si chiama lo vediamo subito West William lo vediamo Fort William scusate ecco quindi il parroco di Fort William è il classico parroco di provincia un po' chiuso in contrapposizione a tutto quello che invece ha visto nella sua vita padre Duncan. Se tutto ciò non fosse abbastanza chiaro mi piace anche la piccola vignetta in cui padre Duncan difende la musica metal dove dice proprio se bastasse la musica metal per far diventare cattive le persone per far diventare malvagie le persone tutto il mondo sarebbe già perso perché comunque il rock viene ascoltato da un sacco di persone da un sacco di bigotti ben pensanti viene vista come musica del diavolo ma è sempre stato così tutto ciò che scatena diciamo quello che può essere anche il ballo stesso perché il ballo viene visto come delle movenze appunto non rispettose e quindi demoniache tutto ciò che è stato la novità tutto ciò che ha aperto un pochino le frontiere delle nostre inibizioni è stato sempre visto da appunto dai bigotti dai ben pensanti che invece sono ancora fermi all'era di Salem come demoniaco quindi c'è stato il rock poi c'è stato il blues c'è stato il rap successivamente adesso c'è cosa c'è ancora vabbè la trap quella è il male ma per un altro motivo sto scherzando degustibus e quindi mi fa piacere che mostrano appunto questo lato molto rock di padre Duncan di non tanto di sacerdote ma di uomo irlandese vissuto che appunto non disdegna nemmeno la musica metal è un numero che è molto bello mi è piaciuto molto non è privo di difetti al di là appunto del refuso sul nome del disegnatore e un paio di errori di battitura nei balloon che per carità ci sono stati anche nella concorrenza di Laniata però non l'ho detto nel video ma comunque ci sono stati un paio di errori anche al di là dicevo non è privo di difetti nel senso che a livello di espedienti narrativi c'è un sentore di già visto il sentore di già visto principalmente è dato da cosa dato che siamo lettori abituali di Samuel Stern non siamo proprio lettori occasionali uno il viaggio in auto a inizio episodio lo abbiamo già visto in l'abisso anche il fatto che Samuel Stern non vuole fare questi viaggi in lunghi ma viene sempre convinto da padre Duncan è una cosa che abbiamo già vista poi per carità ci sta che magari nella Bibbia di Samuel Stern queste cose si perdono un attimino soprattutto all'inizio però è una cosa che abbiamo già visto di recente perché l'abisso se non sbaglio è il numero 10 correggetemi se sbaglio poi un'altra cosa molto più importante il discorso degli esperimenti sugli indemoniati è una cosa che abbiamo già visto che abbiamo già visto ripetutamente e che per carità potrebbe non essere un errore nel senso che potrebbe portare tutto a una trama finale che ancora noi non vediamo un disegno divino di fumasoli e fila d'oro che noi ancora non vediamo però dal momento che per ora sono stati tutti e tre personaggi che sperimentavano sugli indemoniati indipendenti tra di loro sa un po' di ripetitività per ora poi magari questi personaggi si uniranno oppure si scoprirà che faranno parte di qualcosa di più grande e quindi allora non sarà più così sarà tutto più logico però per ora sa un po' di già visto perché gli esperimenti sugli indemoniati li abbiamo già visti in ordine di lettura in modo molto esagerato chirurgico nel numero 5 la fine della coscienza e poi nel numero 12 la casa delle farfalle in modo dal punto di vista di un educatore quindi un educatore che cercava di educare i demoni anziché bambini e qui un chirurgo che invece di curare la malattia curava il malato dalla malattia praticamente cioè teneva la malattia che in questo caso è il demone è l'ombra dicevo in ordine di uscita perché in ordine cronologico invece quello che è successo nella casa delle farfalle è un flashback quindi abbiamo visto in modo graduale come nella casa delle farfalle ci sia stato questo tentativo di questo educatore che di educazione aveva capito gran poco cercava di coltivare demoni all'interno dei bambini questo chirurgo aveva seguito le orme di questo educatore le aveva portate a un altro livello grazie anche alle sue conoscenze appunto medico-chirurgiche e qua invece vediamo un'altra cosa un'altra scienza ancora quindi non più la scienza del corpo o la scienza dell'educazione ma la vera e propria psicologia la vera e propria psichiatria e vediamo appunto uno psichiatra che cerca di portare fuori i demoni per ora il filo comune è che tutte queste persone appunto che diciamo credono nella scienza piuttosto che in una sfera spirituale sembra quasi che vogliano che l'umanità si evolva in questa nuova specie demoniaca è come se vedessero i demoni che albergano il nostro corpo come un nuovo stadio evolutivo come se gli indemoniati diventassero degli X-Men un'ultima cosa vabbè l'ho detto anche prima c'è un'altra cosa che sa di già visto ma per carità ci sta tantissimo il fatto che anche in questa storia c'è un luogo mi viene ancora da dire bordello poi sicuramente c'è un modo più elegante per definirlo c'è questo locale diciamo a luci rossi locale di scambisti che in un certo senso abbiamo già visto anche nel numero 8 il secondo girone ma lì la storia era totalmente diversa diciamo che il secondo girone era più un rifugio per un certo tipo di persone per un certo tipo di freaks è uno dei miei numeri preferiti proprio per quello mentre in questo numero il fidelio è un vero e proprio locale che è solo un luogo dove si svolgono delle azioni quindi non è il centro della narrazione tant'è che non sa tanto di ripetitività per questo motivo perché i due luoghi sono trattati in modo diverso e poi Samuel stesso cita appunto a quanto gli manca un luogo come questo riferendosi proprio al secondo girone nonostante appunto abbia trovato un pochino di ripetitività in queste piccole cose in queste piccole inizie ma ripeto ormai siamo al numero 15 e si inizia un po' a vedere il quadro generale mi sono piaciute le novità cioè la novità il fatto che vedere questo personaggio che sembrava avesse una doppia personalità no forse era indemoniato in realtà la soluzione era entrambe le cose una cosa non esclude l'altra mi è piaciuta tantissimo questa cosa vedere appunto che c'è una persona con una doppia personalità quindi che ha un problema psichiatrico che però ha anche un problema spirituale e come hanno trattato la cosa è davvero ingegnosa anche ai fini del risultato finale di quello che voleva ottenere lo psichiatra cioè di avere una persona con doppia personalità le cui due personalità entrambe sono possedute da un demone al punto tale che una volta che appunto è eliminata il demone più debole che era quello nella personalità più mite a quanto ho capito io poi spiegatemi se sbaglio è rimasta la personalità diciamo più disinibita più cattiva se vogliamo vederla così con il proprio demone e è stato strumento stesso dello psichiatra Samuel Stern nel tentativo di esorcizzarlo perché ha creato una nuova specie un nuovo ibrido non un demone non un umano indemoniato non un demone uscito dal corpo umano perché si sa non sopravvivono lo scopo del demone è come una metastasi intasare totalmente il corpo umano ma l'ospite resta umano qua invece abbiamo qualcosa di diverso che è un incarnato ovvero un essere umano che ha proprio il potere anche fisico di un demone la forza fisica di un demone vediamo che Greg Dunbar diventa un incarnato lo capiamo dal fatto che non ha più un aspetto totalmente umano ma sappiamo anche che volendo potrebbe avere comunque un aspetto totalmente umano perché un'altra incarnata è palesemente la la snoccolona che segue Samuel dall'inizio alla fine la femme fatale disegnata proprio volutamente così donna del mistero che non si sa chi è alla fine si scopre dalla potenza che ha nel sollevare un motociclista con una mano sola e dalla potenza che ha impiegato per sventrare totalmente quel povero ragazzo si capisce che ha qualcosa dentro di sé che è anche lei un'indemoniata e soprattutto dato che anche lei è paziente e complice di questo psichiatra è sicuramente anche lei un'incarnata non la vedremo più perché è stata spiattellata spiattellata da padre Duncan però vedremo ancora lo psichiatra lo psichiatra che se ne va in questa scena finale molto aperta che fa quasi intendere che se ci dovesse mai essere una nemesi di Samuel Stern potrebbe essere appunto questo psichiatra chi lo sa per come lo hanno disegnato nella scena finale sa un po' di questo però c'è tanta carne al fuoco c'è ancora l'agenzia che trama nell'ombra quindi insomma di nemici se ne stanno formando bisogna solo capire quale sarà il nemico più nemico bene con questo è tutto fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questo numero se vi è piaciuto se avete anche voi qualche amico con una doppia personalità con degli strani feticismi ricchioni maledetto di primi cento io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e vi dico arrivederci al prossimo video ah il prossimo video su Samuel Stern non uscirà il mese prossimo ma uscirà tra una decina di giorni perché ci tengo a fare con voi questo unboxing chissà cosa sarà arrivato dalla Bugs Comics quindi restate sintonizzati che spacchetteremo insieme di nuovo arrivederci